Grazie 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 Ho spostato presso l'America in basso da noi Io sono fisioterapici e ho un centro medico Abbiamo iniziato oggi qualche paziente che ha fatto dei progressi eccezionali grazie al nostro lavoro di telemedicina con Roberta Tra il primo che vi presento che saluta qui si chiama Daniele Daniele è venuto da noi un po' di anni fa si capiva cosa aveva, sembrava una malattia in sangue ma grazie alla collaborazione specialista che ha capito che era il sole siamo curati ma alla fine c'è qualche operazione e grazie all'aiuto di alcuni italiani di Roberta abbiamo potuto farlo vedere in Italia e adesso corre e fa tutto è una tutta è una tutta è una tutta è una tutta e qui c'è la sorella che vuole la sua parte di celebrità Buonoodle Allora, per aiuto ancora dei nostri amici in Italia, continuiamo a seguire Daniele per i suoi impegni cardiologici per fare dei controlli e anche un po' per la scuola, quindi abbiamo parlato qualcosa a casa. Grazie mille. Il cielo di amore lui ci ama immensamente, ascolta oggi ho scoperto il cielo, di amore lui ci ama immensamente. Quante cose belle ci sono nel mondo, le spiega di altri, i loro amici, la più bella cosa tu sei bene. Qual è l'amore di tutto e la più bella, l'amore del papà, l'amore della mamma, i vestiti dei sposi, tutto vero e vero che... Grazie.